Ma questa sera ti trovo molto dolce, visto nel parco, non sembri felice. Sembra quasi che tu ti senti inseguito da qualcuno. Il pugilato ti fa così paura, Ronnie. Come? Quando ti ho visto la prima volta, sembravi davvero felice. Eri sempre allegro e sorridevi. Allegro e sorridente. Domenica prossima devo partecipare ad un incontro di pugilato. Se sei libera, vieni, mi farebbe piacere. Se sarò libera, verrò senz'altro. Allora promettimelo. Ma... Per favore!